Oggi parliamo di sanità. Quali sono i problemi più gravi della nostra regione? Pensiamo alle lunghe liste di attesa per gli esami specialistici. Purtroppo il CUP non ha mai garantito efficienza e velocità. Per non parlare dell'aumento della mobilità passiva, con un crescente numero di pazienti che vanno a curarsi in altre regioni e la costante riduzione dei servizi territoriali per l'assistenza domiciliare, in particolare per le malattie croniche, fino ad arrivare alla chiusura delle strutture ospedaliere del nostro territorio. Le nostre soluzioni? Perché non partire dalla costituzione di un modello che poggi sulla centralità del paziente? Abbattere le lunghe liste d'attesa garantendo efficienza e velocità nel rispetto dei tempi per visite ed esami. Porre al centro gli ambulatori di medicina generale associata per poter rispondere a tutte le richieste di cure primarie integrando personale specializzato attraverso l'utilizzo della telemedicina. La sanità è una priorità delle Marche di Mirko. Grazie a tutti!